Anticipazioni Tempesta d'amore, giovedì 23 maggio 2019 Tina segue il consiglio di Hildegard e ovvero redigere una lista di tutti i difetti di Robert Salfield, per dimenticarlo il prima possibile, e continua in perterrita con il dettagliato elenco. Nella bizzarra idea viene inevitabilmente coinvolto anche Alphonse. Si scopre che lo sconosciuto con il quale Paul ha litigato durante la sessione di pesca altri non è che Yelnonimus, il padre di Ronim. L'uomo arriva al Fustenhof e scopre di aver avuto già un alterco con il futuro genero. L'imbarazzo del giovane atleta raggiunge il culmine. Intanto la situazione tra Annabelle e Denise si fa sempre più tesa. Le due ragazze sono sul piede di guerra. Ciao! 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 Grazie a tutti.